Negli anni una possibilità di esprimermi è molto grande, perché a me mi affascina esplorare le frontiere nuove, mi piace andare per nuove strade, io mi diverto costando le frontiere della mia propria conoscenza. La luce come negli ultimi anni ha avuto dei cambiamenti tecnologici, apre le possibilità di ripensare come si fa. Io se devo essere sincero non affronto il progetto attraverso la dimensione narrativa. La luce negli ultimi anni ha avuto dei cambiamenti tecnologici interessanti, ho aperto a nuove frontiere di sperimentazione e di scoperta che è quello che a me mi interessa.